Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e andiamo quindi subito a vedere il vincitore di oggi della ruota della fortuna vediamo un attimo chi ha vinto il contest di oggi e l'ha vinto Gino quindi andiamo subito a vedere cosa ha vinto e andiamo subito a fare il giro della ruota della fortuna vediamo un attimo cosa ha vinto Gino e ha vinto la skin di Harley Quinn quindi mi raccomando scrivimi su Instagram ragazzi bentornati in questo nuvissimo video io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuvissimo video su Fortnite News per altri super leak inerenti alla nuova patch al cubo e 3 skin ovvero 3 stili gratis che presto verranno dati su Fortnite e nuovissime insomma notizie detto questo per iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanellina cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace vi ricordo tutti i miei social mi raccomando qua sotto nei commenti tra cui Telegram per lì che in anteprima Instagram mi raccomando seguitemi anche lì e soprattutto poi il canale Viola dove vado in live dalle 20 detto questo incominciamo subito iniziamo ragazzi subito con una curiosità molto interessante infatti come possiamo vedere se ci pensate i cubi o meglio i colori dei cubi ovvero il viola, il giallo e l'azzurro c'erano già stati svelati proprio nella stagione numero 5 che abbiamo avuto in questo capitolo numero 2 infatti come possiamo vedere tutte le skin del pass avevano questi stili esclusivi con il colore esattamente di cubi ovvero azzurro, viola e ovviamente l'oro quindi una curiosità molto interessante prossima news già che siamo ovviamente tema di cubo parliamo dei cubi infatti come possiamo vedere esattamente il 28 settembre ragazzi avremo probabilmente il prossimo risveglio insomma del cubo infatti come possiamo vedere l'esatta insomma posizione si trova proprio vicino a Foschi Fumaioli ed è per questo che si pensa che magari proprio quel giorno possa anche succedere magari qualcosa a Foschi Fumaioli io non credo che verrà direttamente distrutta esattamente il 28 settembre per il fatto semplicemente che non è del tutto vicino quindi è diciamo difficile che in qualche modo venga già distrutta esattamente il 28 perché comunque si siamo vicini a Foschi Fumaioli ma addirittura insomma causare una distruzione una distruzione scusate la vero molto difficile quindi secondo me verrà distrutta prossimamente però comunque il prossimo risveglio sappiamo che sarà esattamente il 28 settembre alle ore 17 e andando avanti ragazzi con la prossima news questa è una collaborazione con questo nuovo film che dovrebbe presto arrivare il personaggio ragazzi di Tyler Rake infatti all'interno dei file di gioco l'avamo già visto che c'era la sua skin in lavorazione infatti questo personaggio dovrebbe arrivare esattamente all'interno del negozio egetto di Fortnite entro insomma il 2000 anzi nel corso insomma dell'anno 2022 dato che il film uscirà dal 2022 il giorno non credo che ci sia già ma sappiamo che esce il 2022 questo film quindi quando uscirà questo film uscirà ovviamente anche la skin su Fortnite dato che comunque nei file di gioco è già in lavorazione poi la prossima collaborazione che sappiamo che arriverà questa veramente a breve è quella di Fortnite con Monopoly sappiamo che di questa collaborazione arriveranno innanzitutto delle skin e dei backpack nel negozio oggetti ci sarà pure ragazzi la LTM in teoria dato che ci sono più di 1000 test e prova nella nuova patch si dice che stanno lavorando a questa nuova modalità dedicata in collaborazione insomma ecco con Monopoly e inoltre una delle skin che dovrebbe arrivare in collaborazione con Monopoly è proprio questa qui che vi metto alla mia destra l'abbiamo tutti visto il classico insomma uomo che vediamo nelle scatole insomma dei vari Monopoly quindi dovrebbe arrivare anche come skin nel negozio oggetti insieme ovviamente ad altre e poi speriamo che magari esca la sua LTM proprio con la patch 18.10 in arrivo vi ricordo questo martedì infatti come possiamo vedere vi informo anche che la patch 18.10 arriva adesso a 1135 test di prova in arrivo ovviamente il 28 settembre ovvero questo martedì prossime notizie riguardano il negozio oggetti infatti abbiamo la data ufficiale di quando Venom se ne andrà via dal negozio oggetti infatti se lo volete acquistare avete ancora tempo fino al 30 settembre dopo il 30 settembre ovviamente non sarà più disponibile al negozio oggetti la potrete trovare sicuramente però in futuro ovviamente qualora uscisse di nuovo la Marvel inoltre ragazzi queste non ve le ho fatte vedere ieri perché se no usciva un video di 20 minuti infatti le vediamo con calma piano piano ogni giorno questo sembrerebbe comunque essere un nuovo bundle anime in arrivo su Fortnite infatti come possiamo vedere sono tre skin che comunque si vedono che dovrebbero essere riusciati insieme quindi dovrebbe essere in teoria un bundle dedicato per l'appunto al genere insomma anime l'ultima skin che vi voglio far vedere è proprio quella dedicata alla Dottoressa Sloan infatti come possiamo vedere qua la vediamo in una versione molto diversa perché come possiamo vedere è totalmente cambiata la vediamo in versione ovviamente invernale con questa sua bellissima armatura non è ovviamente uno stile che verrà chiaramente aggiunto perché essendo una skin del pass è difficile che aggiungino insomma degli stili anche se è successo quindi mai dire mai però dovrebbe essere in teoria credo una skin a parte prossima news è veramente super super bella per il mio perché come possiamo vedere è interessante perché c'è una sfida ragazzi che chiede praticamente di visitare il punto zero ma noi sappiamo benissimo che il punto zero attualmente non è disponibile o meglio non si può vedere in mappa quindi molto probabilmente nel corso della stagione numero 8 potremmo vedere ragazzi il cubo in mappa dato che c'è questa sfida che richiedeva appunto di visitare il punto zero quindi aspettatevi un nuovo punto interesse nella mappa con proprio il punto zero adesso non sappiamo dove sarà in che modo potrebbe apparire ma sicuramente con qualche piccolo evento che ci sarà durante il corso della stagione magari tramite il cubo insomma questo punto zero si potrà di nuovo trovare visibile e visitabile insomma in mappa detto questo ragazzi passiamo adesso a tutte le notizie della nuova crew riassumiamo un attimo velocemente cosa sta succedendo per quello che riguarda i nuovi crew infatti sembrerebbe che due nuovi siti siano presto disponibili per nuove crew in teoria infatti probabilmente conosceremo qualcosa di più su questa skin a fase che vi ho già parlato ieri per chi si fosse perso qualcosa ci sono delle nuove skin che funzionano un po' come le skin di ombra amida quindi più mesi compri più insomma stili bonus potrei ottenere gratuitamente con la crew sembrerebbe che la riproporranno in futuro ci sono per l'appunto già i siti disponibili non sappiamo quando verranno rilasciati però insomma possiamo vedere che questa skin sembrerebbe che in base a quanti abbonamenti proprio hai preso durante tutte le varie stagioni durante tutti i vari mesi scusate che sono stati rilasciati ai crew di fortnite ogni tot abbonamento tipo esempio ogni tipo hai fatto 5 mesi di abbonamento bene ti dà magari uno stile bonus hai fatto 10 mesi di abbonamento ti dà un altro stile bonus e una roba del genere per questo comunque dovrebbe essere annunciata questa diciamo nuova funzione della crew di fortnite e andiamo ovviamente a vedere l'attuale crew di fortnite andiamo a fare qualche chiarimento perché sono uscite delle nuove news innanzitutto per chi si fosse perso qualcosa queste sono le 3 crew che ci saranno nei prossimi mesi quelle di settembre abbiamo già avuto ci sarà quella di ottobre e di novembre quella di ottobre sarà quella con l'agente del caos e quella di novembre sarà invece quella versione femminile questi queste skin ovviamente avranno dei stili bonus questi stili bonus come li potrete ottenere bene sono stili bonus che vi verranno dati gratis qualora siete in possesso della crew di fortnite dal mese di settembre fino al mese ovviamente di novembre quindi in poche parole come funziona voi acquistando la crew di settembre di ottobre di novembre mi raccomando acquistandole tutte mi raccomando non fate l'errore magari ah mi acquisto solo la crew di settembre così vabbè mi da almeno uno stile esclusivo per la skin del lupo perché no non lo otterrete dovete mi raccomando acquistare tutte le crew di settembre di ottobre e di novembre per ottenere insomma tutti e tre i stili esclusivi questi stili ovviamente vi verranno dati gratuitamente con l'acquisto di questi tre mesi della crew di fortnite non appena acquisterete il terzo mese pam avrete tutti e tre i stili gratuitamente nel vostro armadietto inoltre ragazzi vi mostro già quali stili ci daranno perché ieri alle 16 sono stati annunciati andiamoli ad analizzare infatti questi sono tutti e tre i stili che verranno dati con l'acquisto delle tre crew di fortnite che vi ho detto prima e come possiamo vedere sono molto carine devo dire e la cosa interessante che ora sto notando è che tutte le tre skin hanno l'elmetto come possiamo vedere quindi la testa il casco insomma tutto colorato d'oro quindi richiamo ovviamente mida poi come possiamo vedere le armature sembrerebbero essere anche un po' modificate quindi sicuramente sono anche quelle cambiate però quello che diciamo più importante da notare in questi tre stili nuovi sono per l'appunto le teste insomma gli elmetti i caschi tutti colorati di oro quindi richiamo ovviamente mida ovviamente vi ricordo che poi ci sarà una storia dedicata che tra l'altro quella del lupo è già uscita magari ve la metto dopo questa clip ci sarà comunque una piccola clip di storia dedicata a tutte queste tre skin delle ombre di mida quindi fatemi sapere se vi piacciono questi tre stili che verranno dati gratis insomma perché alla fine gratis vengono dati perché sono stili in più ripeto la crew di fortnite comprende solo l'abbonamento il pass quindi queste sono comunque cose in più quindi tanto di cappello è un'ottima cosa anche comunque per far acquistare le varie crew di fortnite a tutti i giocatori siccome poi sono stili esclusivi ragazzi non torneranno più quindi insomma chi le prende bene chi non le prende non le potrà mai avere quindi mi raccomando se riuscite e potete prendetele perché saranno poi stili che non e dico non ritorneranno mai sono proprio un'esclusiva per queste tre crew di fortnite mi raccomando detto questo noi ci salutiamo ci vediamo domani alle 18 con un nuovissimo video su youtube con nuove news tante robe belle credo di essere in live stasera devo un attimo vedere comunque trovate il link mi raccomando nei commenti iscrivetevi mi raccomando anche a telegram e detto questo ci vediamo domani bella ciao